SP Service, centro revisioni, officina autorizzata Iveco e multimarca per auto, camper e mezzi pesanti. Vendita, montaggio e rimessaggio pneumatici, elettrauto, rigenerazione PAP, impianti Hi-Fi, riparazioni frighi, sponde e aria condizionata. Ci trovi in via Pedemonte a Serra Riccò e in via Gramsci a Genova Manesseno. SP Service, qualità e convenienza prima di tutto.